Nel turno di stoppo il Sassari Latadolce non si ferma e ritrova la vittoria nel recupero della diciassettesima giornata sul campo di Giuliano. Dopo tre sconfitte e un pareggio va a segno Luigi Scotto che grazie alla sua doppietta nei primi otto minuti del primo tempo chiude la gara. Partono subito all'attacco i ragazzi di Mister Fossati e al secondo minuto subito il vantaggio con un campo lavoro su calcio di punizione di filato di Scotto che supera il portiere avversario. All'ottavo ancora Scotto su un calcio piazzato, questa volta più centrale e firma il 2-0. Alla ripresa i padroni di casa provano ad aprire il match ma un grande urbietis evita i pericoli avversari e così con qualche affanno il Latadolce resiste e si porta a casa tre punti d'oro importantissimi per la classifica.